La mia visione è trovare lavoro per un numero quanto più grande di persone, senza distinzione di sesso, razza o religione, in un ambiente di lavoro in cui i valori sono più importanti del denaro. Quello che io sto cercando di fare è di mettere insieme un insieme sempre più grande di persone che trovano nel lavorare non solo un modo per arrivare a mantenersi, ma anche un modo per creare del valore nella società in cui vivono e tra di loro. Grazie a tutti.